Navigazione Lago Maggiore, ora il servizio è a pieno regime. Già dallo scorso primo agosto il trasporto veicoli tra Intra e Laveno è stato intensificato, ripristinando da lunedì al venerdì le abituali frequenze dei traghetti ogni 20 minuti nella fascia oraria centrale della giornata e ciò per recepire le istanze dei numerosi lavoratori pendolari che ne fruiscono giornalmente. Inoltre l'impiego della flotta è stato organizzato prevedendo l'utilizzo della nuova motonave Topazio su tutto il lago e fino in Svizzera, toccando anche gli scali di Brissago, confermata alle isole di Brissago, Ascona e Locarno. La nuova motonave, diesel elettrica, è stata inaugurata lo scorso 16 aprile ad Arona e fino ad ora ha circolato nelle corse di collegamento Arona-Centro Lago e nel Golfo Borromeo. Dal 2 agosto ha varcato i confini nazionali, navigando l'intero lago. Può accogliere fino a 200 passeggeri, come portata massima in tempi non-Covid. La sua particolarità risiede nella possibilità di effettuare le manovre di avvicinamento ed allontanamento dallo scalo in modalità elettrica, permettendo quindi di ridurre l'inquinamento atmosferico e quello acustico. Si tratta della prima nave ibrida in esercizio nelle acque interne italiane, spiega il direttore di esercizio e navigazione Lago Maggiore, Paolo Bianchi. La nave è dotata altresì di rastrelliere per il trasporto biciclette. Vogliamo, prosegue, che il servizio di trasporto della navigazione Lago Maggiore e in particolare la sostenibilità della nuova motonave ibrida Topazio si inserisca quale valore aggiunto e opportunità di richiamo turistico per l'intero territorio del Lago Maggiore. L'inizio dell'attività di collegamento internazionale dello scorso 4 luglio aveva dato ufficialmente avvio alla stagione turistica della navigazione, una programmazione oraria aggiornata e modulata step by step per monitorare la situazione e calibrare il servizio in funzione del traffico viaggiatori registrato.